Sta tornando gradualmente regolare la circolazione sulla linea adriatica San Vito-San Severo, la linea Pescara-Foggia e qui siamo alla Galleria San Giovanni, siamo proprio su una grata dove sono stati effettuati dei lavori, lavori di potenziamento strutturale e tecnologico. Ingegnere Giovanni Ciarbiello, DRFI, la società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, tutto come previsto? Tutto come previsto, i programmi sono rispettati, stiamo facendo gli ultimi lavori di finitura, dopodiché alle 14 effettueremo dei test con dei treni e alle 16 riattiveremo la regolare circolazione a servizio dei passeggeri. Ingegnere abbiamo proprio i piedi su una grata che fa vedere uno dei lavori importanti effettuati. Sì, stiamo camminando sul Water Drain System, quindi questo nuovo sistema che permette un regolare deflusso dell'acqua e una più facile manutenzione in futuro. Questa è una galleria molto lunga e quindi in questa galleria sono stati effettuati questi lavori. Poi nelle gallerie di Pescara invece? Nella galleria San Donato, alle porte di Pescara, è stato effettuato il lavoro inerente allo slab track, quindi abbiamo installato queste piattaforme in cemento armato, costruite in fabbrica e portate in galleria che a tutti gli effetti rinnovano completamente l'infrastruttura perché eliminiamo il pietrisco e il binario si poggia direttamente su queste piattaforme. Un lavoro preparato da tanto tempo. Sì, adesso vediamo solo la fase finale realizzativa che ci dà grande soddisfazione. In realtà questo lavoro parte tre anni fa con il vaglio di diverse ipotesi. 250 persone al lavoro, lavori effettuati in pochi giorni. Avete cercato di contenere i disagi mettendo a disposizione dei pullman per rispondere alle esigenze dell'utenza. Un importo di lavori pari a circa 260 milioni di euro da fondi PNRR? 100 milioni da fondi PNRR e 260 milioni di investimento totale. Sì, abbiamo messo tanti mezzi sostitutivi per cercare di limitare il disagio. Poi naturalmente un autobus non sarà mai comodo e funzionale come un treno, quindi i disagi in ogni modo ci sono stati. Ma abbiamo fatto di tutto per restituire alla circolazione ferroviaria un'infrastruttura ancora più affidabile e una disponibilità che porterà a una maggiore puntualità in futuro dei treni. Stanno effettuando proprio gli ultimi lavori? Sì, effettuiamo gli ultimi lavori di finitura. Alle mie spalle vedete la macchina livellatrice che sta proprio livellando, spingendo i martelletti all'interno del pietrisco e movimentandolo per assestare l'infrastruttura. Dunque si riparte con tanti vantaggi in più. Sì, tutti questi interventi infrastrutturali daranno una maggiore disponibilità dell'infrastruttura dovuta proprio al fatto che la manutenzione è resa più semplice da quest'opera.